Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio intervistare le persone per vedere cosa pensano di Figarazzi, ok? Incominciamo! Scusi, ragazzino, scusi, cosa pensa di Figarazzi? Per questa domanda? No, per YouTube, è una daily blog. E cosa pensa di Figarazzi, della polizia, delle scuole, cosa pensa? Non lo so perché sono stati a Figarazzi alcuni forti, tipo rapine, supermercati, cosa so. E poi, tipo, lei in che classe va? Perché mi fa questa bianca? No, perché è una challenge. Ok, in classe quinta? E come si trova là? È già amichevole? Sì, sì, è bello stare insieme con i campagni. Quindi diciamo insieme, io amo Figarazzi. Io amo Figarazzi! Siamo davanti al viale della via Calabrese, come potete vedere. Abbiamo fatto delle domande a qualcuno, ma qualcuno non ci ha voluto rispondere, ok? Quindi vediamo se c'è qualcuno che ci può rispondere. A dopo. Allora ragazzi, abbiamo chiesto a alcune persone di tanti negozi cosa pensano di Figarazzi, ma niente, non ci hanno risposto nessuno. E quindi... Cosa pensa di Figarazzi? A che festività? Cosa pensa di Figarazzi? Di Figarazzi cosa ne pensano? Non pensano. È troppo meraviglioso. Per le festività. Quale festività? Tipo l'immacolata. Ma dove stiamo farciato? Perché è sbagliato, perché dice il Signore, nella parodia leggiamo queste cose noi, che alla volta aspetta il Signore, non una statua tanto più a un uomo, le lote aspettano al Signore. Nel momento in cui ci rivolgiamo alle statue, questa è l'idolatria poi, il Signore non vuole, è giusto che non vuole il Signore. Certo. Eh, che la cosa che aspetta il medico? Non la togli, non do più una statua. Eh, che faccio? Allora, che faccio?